Noi pensiamo che i bambini, i ragazzi, siano il veicolo più importante per educare più grandi a mantenere il decoro in città, soprattutto per gli aspetti che riguardano il corretto smaltimento dei rifiuti, l'educazione alla raccolta differenziata e soprattutto in una realtà come questa, il quartiere Sappusi, ma è una realtà che coinvolge evidentemente anche tutte le altre realtà popolari, come Amabilina, Via Istria, su cui noi abbiamo fatto diverse attività. I bambini sono il veicolo più importante per educare i grandi a fare una corretta educazione per quanto riguarda la raccolta differenziata. Oggi c'è un'altra associazione qua vicino di bambini che sta pulendo il campo giochi e una pratica questa che si sta diffondendo nell'ambito delle generazioni più giovani. Questo è lo strumento più efficace per cercare di convincere tutti ad effettuare correttamente la raccolta differenziata nel rispetto intanto del decoro della città ma anche dell'ambiente perché ogni rifiuto che viene abbandonato, soprattutto nelle coste, questi ragazzi stanno andando a bonificare il tratto di costa che si trova qua nell'ambito del porticciolo di Sappusi per i rifiuti abbandonati lì sono estremamente dannosi all'ambiente.